La paura della solitudine può portarci a vivere delle sensazioni di ansia, palpitazioni, paura, ma secondo me la cosa più pericolosa in assoluto è che questa possa un po' cronicizzarsi. Ho paura di rimanere solo, ma nel frattempo non faccio niente per stare con gli altri. È qui che ci può essere un circuito vizioso che si instaura dentro di noi e che non ci consente di vedere le nostre capacità, le nostre potenzialità e quindi di stare in ambienti in cui possiamo passare nel tempo con altre persone. Al giorno d'oggi ci sono tantissime anche applicazioni che ci aiutano a stare con gli altri e non intendo applicazioni di incontri, ma applicazioni in cui le persone stanno insieme e condividono quello stare insieme con un certo tipo di obiettivo, magari fare una passeggiata fuori dal centro abitato oppure andare ad una mostra, ma le persone che vivono la paura della solitudine come una forma patologica purtroppo non riescono neanche ad aderire a queste iniziative che magari sembrano delle iniziative che possono sembrare banali e scontate. Quindi è importante che ognuno di noi si faccia un esame di consapevolezza che capisca quanto la paura della solitudine ci porta diciamo a vivere la solitudine come l'unica possibilità di stare, di stare al mondo, di vivere, di vivere la nostra quotidianità. Se vuoi maggiori informazioni leggi anche l'articolo che ho scritto nel blog che troverai all'interno della sezione del blog di Catallansia oppure contattami al 340 419915, possiamo iniziare a parlarne, possiamo affrontare questo tipo di paura insieme. Grazie.